Il comando CALCOLO consente di dimensionare le sezioni dei diversi tratti della rete. Le sezioni calcolate verranno utilizzate per disegnare la rete in 2D con i comandi di percorso. Si noti che non esista alcun collegamento dinamico tra i risultati del calcolo e il disegno della rete 2D. Indicare disegnando liberamente il percorso con il comando LINEA DEL CAD. Con il comando CALCOLO IDRAULICO si configurano le variabili di calcolo e di testi da scrivere. Selezionare il percorso e individuare il ramo principale per trasformarlo in un albero dinamico per poter effettuare il calcolo. I campi da compilare appaiono alla fine dei rami e devono essere completati con le portate. Fornire il valore con il comando PORTATA ACQUA. Inserire la portata sulla linea di comando e assegnarla ai relativi rami. Continua fino a quando tutti i rami non saranno definiti. Le dimensioni dei vari rami della rete vengono aggiornati automaticamente su tutti i tratti coinvolti. Ora è possibile disegnare la rete con le sezioni definite dai risultati del calcolo. Grazie. Grazie. Grazie.